Buonasera, buonasera, benvenuti in diretta. Mi sono dimenticato di far partire la sigla di Big Talk, ma ne farete a meno, anzi la metterò in chiusura. Un saluto a tutti gli amici e le amiche che si sono già collegate, grazie mille, grazie mille, ci aspetta una chiacchierata molto interessante, su un tema che mi sta molto a cuore, forse sullo sfondo sentite già i gatti lamentarsi, ma non sarebbe il mio format se così non fosse. Allora, prima di iniziare dico due cose. Alla fine della diretta ci sarà una sorpresina, apposta proprio specifica per voi che mi seguite su Twitch, e mentre devo rettificare una cosa detta durante l'ultimo talk, in cui, come sapete, Sergio mi aiuta in regia, e durante l'ultimo talk ho detto che non disdegna la verga, devo rettificare, quell'informazione, diciamo, non è del tutto corretta. Tutto lì. Allora, un saluto alle persone ancora che si stanno collegando in questo momento, un saluto al Giglio Fragile, mi ritrovo tantissimo, fra l'altro, in questa definizione. Ma detto ciò, esatto, esatto, qualcuno ha notato le guerriere sailor sul mio sfondo, ma a questo punto cominciamo. Iniziamo col tema di questa sera, che sono le fallace argomentative. Qualcosa che dovremmo studiare, non dico alle elementari, alle medie forse, ma di sicuro, di sicuro al liceo. E si tratta degli errori nel ragionamento, intenzionali e quindi come spedienti dialettici intellettualmente disonesti, oppure fatti in buona fede. Spiegherò anche le fallacce che io stesso tendo a commettere. Partiamo dalla prima. Fra l'altro, qualche mese fa, ho realizzato con il Mensa Italia un video divulgativo di introduzione, non certo esaustivo, al tema delle fallacce argomentative. Lo trovate su Facebook, lo trovate su YouTube. Partiamo dalla prima, perché per chi non conosce l'argomento sembrano magari delle questioni un pochino astratte, invece non lo sono per niente. Allora, una fallaccia argomentativa molto comune è il cosiddetto strawman argument, uomo di paglia, l'argomentazione fantoccio, che consiste nel cambiare l'argomentazione proposta dall'interlocutore, solitamente estremizzandola, ma dipende, per renderla più facile da attaccare. Vi faccio un esempio. Ritengo che lo Stato dovrebbe spendere di meno per l'esercito e di più nell'istruzione. Risposta. Quindi, secondo te, le forze dell'ordine sono inutili e andrebbero sbantellate? Allora, suona bene, suona una risposta efficace che sicuramente ha presa sul pubblico, ma ha cambiato l'argomentazione, perché ha trasformato l'argomentazione da, secondo me, dovremmo spendere meno in... non dovremmo spendere niente, o le forze dell'ordine sono inutili. Chiaramente questa seconda argomentazione è molto più semplice da attaccare. Altro esempio. Io sono contrario alla pena di morte. Quindi, secondo te, le vittime non meritano giustizia? Di nuovo, è stata cambiata l'argomentazione, perché dire sono contro la pena di morte e non significa che io sia contro ad altre punizioni penali. Chiaramente, l'argomentazione del ritengo che le vittime non debbano ricevere giustizia è estremamente facile da attaccare. Quindi l'interlocutore, intellettualmente disonesto, mette in bocca al suo avversario un argomento fantoccio e commenta quello, e dopo afferma, di fatto, di averlo sconfitto commentando quello. È il classico caso di chi poi conclude dicendo l'ho asfaltato, l'ho distrutto, ma in realtà non ha combattuto, discusso l'argomentazione principale dell'interlocutore, ma ha un'argomentazione fantoccio. Oppure, per fare esempi invece che non hanno a che fare con il dibattito politico nella vita di tutti i giorni, tipo, guarda, secondo me dovresti cambiare... Ad esempio, questa scelta che hai fatto in ambito lavorativo, secondo me è sbagliata per questa ragione. Ah, quindi secondo te io sono stupido? No, non ho detto questo. Insomma, confido che abbiate capito che cos'è l'argomento fantoccio. Fra l'altro c'è una sottocategoria particolarmente insidiosa dell'argomento fantoccio, che è il weak man argument, ossia dove non cambio totalmente l'argomentazione del mio interlocutore, ma la riduco al pezzettino più facilmente attaccabile. Un esempio potrebbe essere seguire una dieta equilibrata e fare attività fisica è importante per mantenersi in salute, giova alla salute mentale e ti aiuta anche ad essere fisicamente più attraente, quindi avere più successo in ambito relazionale. Risposta. Cioè, quindi secondo te io dovrei perdere un'ora in palestra, ammazzarmi con la dieta per piacere agli altri? è comunque un argomento fantoccio, perché l'argomentazione era per la salute fisica, mentale e per essere più attraenti. L'argomentazione è stata ridotta totalmente nel essere più attraenti. Questo è un espediente dialettico abusatissimo nel dibattito politico. L'ho messo come primo perché penso che effettivamente sia il più diffuso. Un altro molto diffuso invece è la china pericolosa, in inglese slippery slope, ossia si commenta un'argomentazione paventando delle conseguenze come ineluttabili quando in realtà sono arbitrarie. È il classico caso del... se approviamo l'utilizzo di droghe leggere come la cannabis, finiremo per approvare l'eroina. In realtà in nessuno stato in cui sia stata approvata la cannabis, legalizzata la cannabis, poi è stata legalizzata l'eroina. Quindi l'immagine è proprio quella del piano inclinato, in cui io lo piego per far rotolare una palla, ma che in realtà starebbe in equilibrio. O, che abbiamo sentito tantissime volte, non possiamo approvare il matrimonio ugualitario perché se approviamo il matrimonio tra due persone dello stesso sesso finiremo per consentire alle persone di sposarsi in tre, in quattro o di sposare i loro cani. Questa è una possibile conseguenza, estremamente astratta, fantasiosa, ma di certo non ineluttabile. È vero che questo tipo di fallaccia viene solitamente commessa da chi ha posizioni conservatrici, ma è tautologico, in quanto è un tentativo di spaventare sulle conseguenze di un cambiamento. Però è una fallaccia che si può sentire da tutte le parti. Non è raro sentir dire, ad esempio, non possiamo consentire ad una persona che ha idee conservatrici di esprimersi perché se no ci ritroviamo poi governati dal fascismo. No, ok, c'è questo rischio? In effetti sì, ma non è una conseguenza ineluttabile tale da privarlo del diritto di parola. O ancora, se consentiamo alle aziende di impiegare dei robot, nessuno vorrà più assumere persone. Sulla base di cosa stai dicendo questo? È una fallaccia, appunto, la slippery slope, o fallaccia del piano inclinato, o del piano scivoloso, ha tanti nomi. Altro esempio, molto comune, è quello che in inglese si definisce deflecting, o anche detta la falsa pista. Consiste nello svicolarsi dall'argomentazione proposta dall'interlocutore proponendone una che ha vagamente a che fare, ma il cui unico scopo è quello di spostare l'attenzione. È tipico di chi riceve una domanda e anziché rispondere fa una domanda a sua volta. No, rispondimi tu prima a questo. È un espediente retorico, sostanzialmente, di nuovo, molto disonesto. Pensate che addirittura prende il nome quando è utilizzato nell'ambito antiscientifico di tecnica della montagna di merda, ma è il nome tecnico, ossia inizia a ricoprire gli interlocutori di domande e non lo fai parlare. Comunque, facciamo degli esempi concreti. Io dico, ritengo che l'attuale gestione comunale sia negligente per quanto riguarda la manutenzione delle strade. Ogni riferimento a capitali è puramente casuale. Risposta, scusami, e allora il caos causato dall'amministrazione precedente con lo smaltimento dei rifiuti? Allora, è vero che l'ambito è lo stesso, tuttavia non ha commentato, non ha commentato il problema che io stavo denunciando. Ha tirato in ballo un altro problema per spostare l'attenzione su quello. Altro esempio che vi posso fare. Argomentazione. Ritengo che si debbano istituire nella scuola, ad esempio nelle scuole medie o nei licei, dei programmi di sensibilizzazione sulla violenza di genere per parlare, ad esempio, del tema sulla violenza sulle donne. E allora la violenza sugli uomini? Questo è un esempio sottile, perché effettivamente il tema della violenza sugli uomini è importante, è interessante e non è discusso. violenza fisica, violenza psicologica. Ma in questa formulazione è una fallaccia. Perché? Perché non ha controbattuto l'argomentazione. Avrebbe dovuto dire sono contrario all'istituzione di questi programmi perché ritengo che invece ne dovremmo istituire di più completi che non si focalizzino sul genere. E poi uno sostiene il perché. Comunque, vi ho fatto degli esempi su che cosa sia il defletting, appunto. Altro esempio molto, molto comune è la fallaccia ad hominem. Consiste nello spostare il discorso dall'argomentazione che si sta dibattendo all'interlocutore. E qua potrei fare tantissimi esempi. Ad esempio, dovremmo ridurre i nostri consumi per contrastare il cambiamento climatico. Ma scusa, parli tu che giri in macchina? Allora, questa accusa, questo tentativo di spostare sul personale non ha minimamente risposto alla problematica denunciata, all'argomentazione, insomma, portata da questo ipotetico interlocutore. A volte non commettere questa fallaccia può essere veramente molto difficile perché a volte ti viene servita su un piatto d'argento quando l'interlocutore non ha integrità. Ma è un'altra cosa. Vi posso fare un esempio. E' il caso, magari, di... Prendiamo un politico che sostiene che esista solo un tipo di famiglia. La famiglia tradizionale, uomo o donna, con prole. E magari questa persona ha alle spalle due divorzi e un sacco di scandali sessuali. Nel momento in cui la persona dice secondo me la famiglia è una sola e viene risposto ma scusa, ma parli tu che hai due divorzi alle spalle? E' una fallaccia. E' una fallaccia perché non si sta controbattendo l'argomentazione. Di fatto, se una persona in piena cirrosi epatica con problemi di alcolismo gravissimo, di gravissimi, dice l'alcol fa male. E' una sostanza tossica. Assumere troppo alcol fa male. Possiamo anche dirgli ah, ma parli tu che sei un alcolizzato. Fatto sta che l'alcol fa comunque male. Tornando al caso dell'esempio che ho fatto del politico che professa una cosa e poi ne fa un'altra. Ovviamente il fatto che lui predichi una cosa e poi ne faccia un'altra dimostra una cosa molto importante che questa persona è priva di integrità. E l'integrità è proprio una delle caratteristiche che dovremmo reputare come imprescindibili per la candidatura a un qualsiasi ruolo politico. Invece è considerata un surplus grasso che cola. Cioè va bene, va bene. Se anche è coerente ben venga ma non se lo si aspetta. Questo naturalmente è sbagliato. Fatto sta che l'onestà intellettuale ci impone di attenerci all'argomentazione anche se la vita personale della persona che porta l'argomentazione non la conferma. Essere intellettualmente onesti significa fare questo. Poi altra fallaccia molto comune fra l'altro vedo nei commenti che sbircio un po' come le fallacce rappresentino il modo di dialogo standard ormai sui social e io sono perfettamente d'accordo. Alla fine poi parlerò infatti di come si dovrebbe strutturare un dibattito politico e dal perché questo non avvenga sui social io risponderò volentieri anche a vostre domande o leggerò i vostri spunti. Vi faccio vi spiego un'altra fallaccia che è la fallaccia appello alla maggioranza consiste nel sottintendere che se un'opinione è condivisa da molti allora debba essere necessariamente vera. Capite che in un contesto di disinformazione questa è veramente è veramente una fallaccia un esempio in dialogo potrebbe essere c'è qualcosa sotto all'idea del comune di installare rampe per disabili nelle scuole lo dicono in troppi ci deve essere del vero perché non è detto non è detto poi la popolarità di un'opinione è un dato che magari merita di essere incluso nell'argomentazione molte persone ritengono che va bene ma da solo non mi basta come prova ecco vi faccio vi fondo due fallace ossia l'argomento fantoccio e l'appello alla maggioranza perché il problema è che si possono anche fondere ritengo ad esempio io affrontando in un dibattito dico non concordo con quello che stai dicendo penso che sia profondamente sbagliato e anzi pericoloso per questa ragione ed elenco abc la persona mi risponde e allora questi milioni di persone che hanno votato per me sono tutti stupidi appello alla maggioranza il fatto che in molti si siano espressi in una direzione implica necessariamente che abbiano ragione e ha cambiato la mia argomentazione la mia argomentazione era sei in errore per queste ragioni con sei stupido è chiaro che la seconda è molto più facile da attaccare passiamo a un'altra che è la falsa dicotomia anche questa è terribilmente usata consiste nel dipingere una realtà in cui ad un problema ci sono solo due possibili soluzioni e questa è usatissima per imporre uno stremismo in cui io ti dico se non vuoi questa cosa vuoi quest'altra ah se non vuoi il fascismo allora vuoi una dittatura sovietica comunista ah se non vuoi il crocifisso nelle aule è perché vuoi islamizzare i nostri bambini ad esempio ci sarebbe tutto il concetto di stato laico che viene escluso da questa falsa da questa falsa dicotomia oppure ah o sei con noi o sei con i terroristi di nuovo potrei non concordare con le tue idee politiche ma non per questo essere a favore del terrorismo del terrorismo magari di stampo islamico ci si ritrova spessissimo ad utilizzare questa fallaccia purtroppo quando appunto quando si parla di politica dove partendo dal presupposto che tutti abbiano le nostre stesse informazioni questo deriva da un bias ossia una struttura nel ragionamento e magari farò una puntata espressamente dedicata a questo pensiamo che tutti abbiano accesso alle nostre stesse informazioni quindi se noi vediamo la stessa realtà e un'altra persona ha un'opinione diversa ci sono solo due spiegazioni o è stupido non capisce non ci arriva o è stronzo o è in mala fede e questo fa sì che non esistano dialoghi non esista un dialogo tra persone appartenenti a diverse bolle ideologiche perché metti di fronte tutti a questa forbice o sei stupido o sei in mala fede in realtà ci sono tantissime altre opzioni magari che l'altra persona abbia ragione tanto per cominciare oppure che le informazioni in suo possesso siano diverse dalle mie e questo succede e succede molto spesso altra fallaccia comunissima comunissima è il cherry picking l'immagine immaginate insomma di prendere una ciliegia da un cesto vado a prendere solo la ciliegia che mi interessa quindi io di tutto un discorso di una quantità di informazioni vado a estrepolare solo quella che conferma la mia tesi e impongo una generalizzazione è il caso di una persona che dice ho letto delle ricerche che affermano che la vitamina C aiuta a migliorare il sistema immunitario per questo io bevo 4 litri di succo d'arancia al giorno ma no le ricerche dicono anche che un'assunzione eccessiva di vitamine non abbia effetti positivi anzi però la persona ha preso quell'unica informazione e ha elaborato la sua tesi succede costantemente per attaccare chi ha determinate idee dove si va a prendere quel caso di cronaca dove la persona appartenente a quella categoria sociale che siano le donne che siano persone che hanno certe idee politiche ha magari commesso un reato e dico ecco guardate guardate le persone che hanno queste idee e come si comportano e questa è appunto un'operazione di cherry picking che può essere a sua volta promiscua con il con il weak man argument dove ho di fronte a me una platea con cento interlocutori uno anziché argomentare in maniera costruttiva posata sbraita dico ecco guardate guardate cosa fanno i miei oppositori mi insultano io sono andato di tutte le argomentazioni contro di me a prendere la più facile da attaccare ossia l'insulto che non c'è modo di difenderla e per imporre una generalizzazione il cherry picking questa fallaccia ha anche una sottocategoria molto 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 comune che è la fallaccia aneddotica cioè io prendo un evento della mia vita e stabilisco e lo faccio assurgere a metodo scientifico che quindi non ha bisogno di ampie raccolte di date di dati e via via dicendo chiedo scusa un attimo qui un problema un esempio che vi posso fare in questo senso è chi dice ma secondo me non è vero che il fumo fa male mia nonna ha fumato fino a 90 anni è sempre stata benissimo in questo caso la nonna funge come prova viene fatta prevalere la vicenda aneddotica della nonna viene fatta prevalere a tutta la letteratura scientifica che dimostra la correlazione tra fumo e la probabilità di sviluppare patologie gravi anche questa succede spostissimo ah io l'ho fatto è andata tutto bene ok è un dato un dato questo spesso è proprio un errore di ragionamento non è necessariamente fatto in malafede altra fallaccia di cui vi posso parlare ce ne sono poi tantissime se voi poi cercate su google fallacce argomentative sono suddivise in categorie ce ne sono veramente veramente tantissime e un'altra di cui vi posso parlare è spostare l'onere della prova cosa vuol dire l'onere della prova ossia la responsabilità di addurre prove di dimostrare la propria tesi sta a chi porta la tesi invece in ambito social va tantissimo dire ora mi riesco con un'argomentazione stupida è in atto un piano del governo per installarci dei microchip e controllare le nostre menti provatemi che non è così è che la non esistenza di qualcosa spesso non è neanche possibile da dimostrare ma poi non è proprio intellettualmente corretto come processo logico la prova la deve portare chi sostiene qualcosa non potete dire non possiamo dire insomma ah per me è così dimostratemi che sbaglio non funziona così devi dimostrare tu che hai ragione è chiaro che molto se sposti l'orne della prova puoi dire praticamente tutto perché ricordiamoci che il mondo del possibile è sterminato le cose che possono succedere cioè non è sufficiente che qualcosa sia possibile per essere probabile sono due cose estremamente diverse e infine concludo ma sarebbe una lista molto molto lunga concludo con la fallacia delle fallace in cosa consiste? consiste nel sostenere che poiché uno nella sua argomentazione ha incluso una fallaccia allora tutto il discorso sia fallato onestà intellettuale impedisce di fare questo ragionamento non è possibile perché in realtà questa è una sottocategoria del weak man argument ossia siamo andati a prendere un errore nel ragionamento per dire che allora tutto il ragionamento era sbagliato va bene confido di avervi fatto insomma una panoramica delle più comuni fallace e di avervi fatto capire quanto spesso siano istintive la naturale tendenza il naturale desiderio di prevalere in un confronto dialettico di avere ragione fa sì che ci si aggrappi aggrappi a tutti gli espedienti dialettici pur di avere ragione può essere proprio una reazione spontanea e a me capita a me capita spesso anche magari discutendo con un mio amico nel dire scusami allora e in quel momento però mi rendo conto che sto io creando una fallaccia e ne prendo atto ma molto spesso invece sono degli artifici retorici molto utili alla propaganda fatti totalmente in mala fede questo perché allora su perché perché conviene perché è facile sostanzialmente utilizzare fallace equivale a essere assistere a una partita di scacchi e a un certo punto un giocatore ribalta al tavolo e inizia a dire ho vinto io che sono più figo e buona parte del pubblico applaude a questa dimostrazione di forza in un contesto serio la persona non verrebbe mai più invitata a giocare al tavolo mentre in un contesto non serio come quello del dibattito che avviene sui social ma anche in contesti televisivi no la persona viene continuamente invitata e continuerà a rifare questa scena e ovviamente è un'immagine insomma astratta del tavolo che viene che viene ribaltato come dovrebbe avvenire in realtà un dibattito e guardate che adesso vi spiegherò qualcosa di tutt'altro che avveneristico o ricercato sono cose che si potrebbero serenamente insegnare ma noi non abbiamo la cultura del dibattito e come sempre essere ignoranti significa essere vulnerabili alle manipolazioni sì sto leggendo i vostri commenti giustamente voi citate delle persone che fanno un grandissimo utilizzo delle fallace ora io cerco sempre di evitare commenti ad persona ma appunto perché credo che abbassino il tono del discorso le lotte si fanno contro le persone non contro le idee però sì avete citato dei nomi effettivamente che ne abusano come Giorgia Meloni Matteo Salvini o Vittorio Sgarbi anche nella narrativa di sinistra vengono fatte molte fallace è più facile trovarle in quella di destra che per una questione di target culturale utilizza il populismo e la demagogia che di nuovo fanno ampissimo uso delle fallace però le fallace di per sé non hanno colore politico specifichiamo questa cosa assolutamente scusate sto leggendo Mario Giordano quel programma è un'enciclopedia di fallace un bellissimo esercizio chissà una volta possiamo anche farlo insieme guardare una clip e metterci insieme a riconoscere le fallace oppure lo faccio come concorso do dei punti a chi riesce a riconoscerle tutte ora ecco scusate poi chiudo la parentesi personaggi avrete visto perché è diventato virale quel video di Matteo Salvini in cui da Floris credo questo non lo ricordo ma in caso smentitemi sostanzialmente viene rimproverato per il fatto che di non avere indossato la mascherina durante uno dei comizi che faceva quest'estate e quando gli viene fatto presente che non poteva restare guancia guancia con degli sconosciuti senza mascherina risponde ah no ok è diventata virale questa parte ma mi è interessato molto di più la parte dopo di solito la clip che è girato si formava qui invece cosa succede nella parte dopo lui come chi oltre come chiunque insomma faccia demagogia deve studiare le fallacce si sa che per ogni tipo di obiezione c'è un tipo di fallaccia che tu devi utilizzare perché sono molto efficaci hanno molta presa hanno molta presa sul pubblico però lì è stato preso in contropiede e allora di fronte a questo rimprovero sul fatto che non avesse seguito le misure di sicurezza andate a cercare la clip lo vedete fare scusi ma secondo lei e lì vedete lo sforzo nel trovare una fallaccia sa che ne ha un ampio repertorio e propone una crasi un po' deboluccia tra due fallacce dice secondo lei ma è peggio un politico che non segue misure di sicurezza o un politico che non mantiene le promesse elettorali qual è la fallaccia qua? sono due falsa pista cioè sto spostando l'argomento contro i miei oppositori politici e falsa dicotomia soprattutto non è che dobbiamo scegliere tra politici che non seguono misure di sicurezza e politici che non mantengono le promesse elettorali è orribile farci credere questa cosa però quella fallaccia si vede che gli è uscita proprio male perché è preso in contropiede comunque anche lì gli iscritti le dichiarazioni ci si può mettere lì e riconoscere tutte le fallacce proprio un esercizio che a scuola ora senza prendere ovviamente un politico esistente andrebbe fatto andrebbe fatto perché l'unico modo ovviamente per non caderci per controbatterle è saperle riconoscere istantaneamente adesso vi spiego scusate un pochino divagato vi spiego come dovrebbe avvenire un dibattito la persona che sostiene una tesi deve portare delle argomentazioni io credo questo sono a favore di questo sono contrario di questo quello che volete per questo A B C lo lascio finire di parlare dopo che ha finito io riassumo la sua argomentazione in modo sintetico e efficace dandomi l'obiettivo di riuscire a fargli dire accidenti come l'hai detta bene avrei voluto spiegarla io così questo bisogna fare questa è la fase in cui emergono le fallace immaginate di dover ricostruire un puzzle e le fallace sono dei pezzi che non si incastrano perché manca la logica appunto quindi qui ad esempio è stata utilizzata un appello alla maggioranza non la posso includere nella ricostruzione oppure è stata fatta una falsa dicotomia dovrò dire qui sono stati mostrati solo due outcome possibili devo però specificare che c'è anche quest'outcome oppure è stata utilizzata la china pericolosa dicendo se viene fatta questa cosa succederà questa cosa io la cambio dicendo per sensibilizzare i rischi di una scelta tu hai mostrato queste conseguenze come possibili quindi sta a me aggiustare le fallace per ricostruire la sua argomentazione ripulita dagli errori logici e gliela pongo e non solo a questo punto io devo anche cercare di dire su quali punti io sono d'accordo allora sull'argomentazione A e B io sono anche d'accordo non sono d'accordo sulla C notare che in questa operazione di ricostruzione dell'argomentazione può succedere una cosa meravigliosa mi rendo conto che quella persona ha ragione nel momento in cui io la ripeto però quante volte lo vedete fare la persona non ascolta per ascoltare ma per ribattere invece dopo aver sentito un'argomentazione la si bisogna ripetere e chiedere conferma anche perché ripeto in questo modo tutte le fallacce si eliminano tutte una volta fatto questo e se non mi sono reso conto che l'altra persona ha ragione sta a me portare le mie argomentazioni io sosterrò la tesi opposta con le argomentazioni A, B, C e a questo punto la persona deve fare la stessa cosa deve riassumere quello che ho detto con efficacia se non lo fa glielo chiedo dico adesso ti chiedo una cortesia ripetimi per piacere con parole tue quello che io ora ti ho spiegato e lì di nuovo si vede se sta utilizzando delle fallace e per contro io devo essere stato attento ovviamente a non aver utilizzato delle fallace arrivati alla fine di questo processo restano solo le argomentazioni a favore di una tesi o a favore dell'altra ci sono due scenari possibili le argomentazioni di uno prevalgono sulle argomentazioni dell'altro benissimo e se le argomentazioni sono state portate avanti senza fallace questo è auto-evidente e proprio diventa evidente chi ha vinto il dibattito benissimo o altrimenti quando non è possibile a volte non è possibile perché magari si sta parlando di impatti futuri no? io ritengo che questa scelta avrà questo impatto io quest'altro è una stima è un po' difficile magari se non a fronte di una mole di dati enormi o di analisi già fatte in passato arrivare ad una verità oggettiva in questo caso come si dice in inglese let's agree to disagree ci si stringe la mano e vediamo chi ha ragione ma quando mai vedete questi due outcome al contrario quando voi vedete in un dibattito che si inizia ad attaccare sul personale che si utilizzano fallace che c'è una escalation dai toni quello non è più un dibattito potete stapparvi una birra al limone e siate consapevoli che state guardando un intrattenimento come può essere il grande fratello l'isola dei famosi purtroppo questo è il dibattito dell'attuale dell'attuale politica che è terribilmente triste ma bisognerebbe lavorare a monte sul perché sulle ragioni del perché si entra in un dibattito vuoi cioè viene intuitivo dire per avere ragione eh no è già sbagliato si deve entrare in un dibattito per arrivare alla verità mi confronto con l'altra persona per vedere chi effettivamente ha ragione oppure non entro per avere ragione ma entro nel dibattito per dimostrare che la mia posizione è ragionevole questi due obiettivi arrivare alla verità o dimostrare che la mia posizione è ragionevole sono molto sani se si entra in un dibattito con l'idea di prevalere è già fallato l'approccio e allora per forza se il tuo obiettivo è quello per forza ti aggrapperai alle fallace in generale quindi ogni volta che vedete un dibattito che non è finito nei due modi che io ho descritto sia let's agree to disagree o con qualcuno che ammette effettivamente la superiorità dell'argomento o dell'altro qualcuno ha usato delle fallace e l'altra persona o non le ha riconosciute e o le ha usate a sua volta quanto tempo è passato? 34 minuti ora in in tutto il periodo della scuola dell'obbligo non si riescono ad inserire questi 34 minuti o non lo so un corso di qualche ora disseminata nel mese voi capite la differenza enorme che farebbe crescere consapevoli delle fallace perché se ne sei consapevole sei molto meno vulnerabile alle manipolazioni ora voglio leggere un po' di commentere tra due morali differenti difficilmente ci sarà un sano punto di contatto si può cercare di comprendere la posizione dell'altro e convincerlo della bontà della propria verissimo è il caso ad esempio delle posizioni delle posizioni ideologiche o giustamente come hai detto morali quello è un approccio è un approccio sano leggo volentieri adesso un po' di commenti chiedo a Sergio di metterli in sovraimpressione tanto seleziono qualcosa io allora no andava bene ce n'era uno allora rendersi conto di avere torto crea una sorta di discordanza interna che pochissima gente ha gli strumenti per reggere quindi pochissimi lo ammettono grazie per questo contributo vero eh capita a tutti capita a tutti soprattutto se sei in pubblico e dopo commento nello specifico questo ma apro una parentesi perché il dibattito sui social fa così schifo per tutto un insieme di fattori per il fatto che si entra nel dibattito con l'idea di aver ragione o umiliare gli altri infatti quanto sentiamo queste espressioni l'ha asfaltato l'ha distrutto come se fosse l'obiettivo quindi quindi c'è un problema nella finalità c'è un problema nella metodologia ossia ignoranza di come andrebbe condotto un dibattito ignoranza di quelle che sono le fallace quindi le si utilizza anche inconsapevolmente e non le sa riconoscere e si è in pubblico che aumenta la posta emotiva ma proprio ci mette il carico da 90 ovviamente anche a me come a tutti capita di avere un confronto pubblico e di pensare tra me e me ahia ha detto una cosa giusta io proprio mi impongo eh come esercizio di dire hai ragione proprio di usare questa formula hai ragione grazie per avermi dato quest'input lo faccio tuttavia ci possono essere contesti in cui magari ehm la posta in gioco è troppo alta c'è una questione non lo so di reputazione e effettivamente magari di fronte a una nozione capovolgente è ben difficile che una persona ammetta grazie a te ho sbagliato tutto in pubblico vi dico però che ci sono dei compromessi che si possono utilizzare serenamente ad esempio è perfettamente appropriato dire ti ringrazio mi hai dato molto su cui pensare pulito semplice quando voi sentite questa espressione di fatto avete vinto un dibattito dovete comprendere questa cosa e quindi accettatela come vittoria e voi stessi utilizzatela utilizzatela serenamente oppure anche un ci devo riflettere va benissimo perché magari in quel momento l'orgoglio ti impedisce di ammettere di aver torto ma non per questo devi insistere nel torto utilizzando delle fallace quindi dei modi in realtà degli escamotage per combattere contro la nostra tendenza umana quell'egocentrismo quell'orgoglio nostro che ci impedisce di ammettere di aver torto ci sono magari non saranno totali come quello che ho suggerito ma sono preferibili al portare avanti un'argomentazione con strumenti intellettualmente disonesti come si può far riflettere una persona che apre una discussione partendo dal presupposto di aver ragione domanda molto bella e chiaramente non c'è non c'è una risposta univoca credo servirebbe un potere magico la comprensione presuppone due cose sono due per me i pilastri la possibilità e la volontà possibilità a sua volta regge su magari un certo tipo di intelligenza la cultura competenze specifiche a volte uno non è in grado di capire non per fare male a fede proprio non è in grado l'altra è la volontà ed è molto peggio se non c'è la seconda quando non c'è va ispirata e tu mi stai un po' chiedendo questo come si ispira la volontà è veramente difficilissimo perché se non c'è non c'è ti potrei dire che devi assumere la prospettiva dell'altro allora un gioco che faccio quando tengo delle conferenze sull'argomento è tipo chiedo a qualcuno di attaccarmi in maniera verbale molto molto aggressiva dopodiché dico mi siedo vicino e dico sento che sei molto arrabbiato questo argomento per qualche ragione ti fa soffrire ti va di parlarmene quelle robe tipo non fatele a casa però funziona sempre la persona si apre come una cozza e inizia a raccontarti perché lei sta male perché si sente una vittima avrò ragione non ce l'avrà a quel punto quando inizia ad aprirsi può iniziare un dibattito vero però devi sempre risolvere sta cosa è che il vitimismo in realtà è talmente diffuso da rendere questo approccio molto difficile vediamo la prossima allora è importante scegliere bene anche le persone con cui si discute verissimo verissimo io sono convinto del fatto che stia a noi alla nostra onestà intellettuale strutturare le argomentazioni in un certo modo e voler portare avanti un certo tipo di dibattito ma non tutti sono interessati e in quel caso si lascia serenamente perdere io non discuto praticamente mai su facebook ma praticamente mai anche perché capisco subito se c'è una remota possibilità di voler capire quando non c'è perché devo perdere tempo a me interessa influenzare la realtà io sono una persona formulazione un po' ingenua ma che nel suo piccolo vorrebbe rendere il mondo un posto migliore e non otterrò questo risultato litigando su facebook non me ne frega niente porterò avanti progetti concreti che penso possano avere questo impatto quindi sì è vero bisogna scegliere le persone con cui dialogare verissimo consiglio a tutti di vedersi thank you for smoking c'è una grandissima lezione su come vengano portate avanti le argomentazioni di chi vuole solo prevalere e non giungere alla verità sai che non lo conosco? che cos'è? un film? una serie di documentari mi piacerebbe moltissimo vederlo fra l'altro Schopenhauer non l'ultimo dei cretini ha scritto l'arte di avere ragione in cui sostanzialmente insegna le fallace ora io il testo non l'ho letto e non credo che lui volesse invitare le persone a essere intellettualmente disoneste ma spiega tutti questi device retorici proprio perché sono efficaci e per riconoscerli sostanzialmente io non ho preso da bere e ho veramente molto bisogno d'acqua quindi torno tra un secondo eccomi chiedo scusa chiedo scusa per l'attesa c'era già un commento in sovraimpressione castodivo un pezzettino bibliografico da consigliare saggi fondamentali per approfondire guarda un testo di riferimento non ce l'ho ma in realtà sono cose per quanto ampi e sintetizzate bene vai serenamente su google fallace argomentative o fallace logiche il primo sito che ti esce credo che sia your fallacy is your fallacy is è molto è molto esaustivo e stampano anche loro dei poster bellissimi con una mappa di tutte le fallacce più comuni non c'è tradizione del dibattito all'americana che viene appunto praticata a scuola verissimo e noi ne avremmo tanto 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 bisogno perché il dibattito è utile e è uno strumento con cui poi si veicolano idee politiche quindi si spostano proprio le sorti di un'intera nazione e di nuovo ricordiamo quando si è ignoranti si è vulnerabili non è che non essendoci cultura del dibattito non ci siano i dibattiti significa che si è appunto vulnerabile a ogni tipo di manipolazione invece andremmo educati al dibattito ma gli americani fanno anche proprio dei concorsi di arte oratoria che a noi manca completamente lo si vede anche in 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 giornalisti come possono essere mentana che continuano utilizzare perché questa cosa è va beh lui lo fa perché non utilizza il prompter però se si studia arte oratoria si sa ad esempio che questi fonemi è meglio non metterli è una sciocchezza sono cose estremamente utili ne sono convinto e andrebbero insegnate nelle scuole chissà magari con mi sta venendo adesso un'idea purtroppo faccio un piccolo inciso con il Mensa associazione che raccoglie persone con elevato qui di cui sono presidente da novembre ci sono tanti progetti che potremmo portare avanti in quest'ambito il problema che ovviamente la pandemia sta bloccando tantissime possibilità però portare avanti i progetti nelle scuole a questo fine serve molto utile così come quello sui bias cognitivi e facciamo ovviamente una puntata e sull'information disorder che descrive lo stato patologico in cui versa oggi l'informazione c'è tanto bisogno di insegnare queste cose nelle scuole che come dico sempre io non hanno meno importanza di sapere che Mesopotamia vuol dire terra tra due fiumi importante anche avere questa nozione ci mancherebbe ma questi concetti non sono meno importanti come non lo sono e qui veramente sulle riforme che farei io sui programmi scolastici ci potrei fare un'intera serie l'educazione emotiva ci sono delle nozioni di psicologia di base perfettamente alla portata di uno studente delle scuole medie che avranno sulla sua vita un impatto enorme che conoscerle gli consentirebbe di prevenire sofferenze emotive e situazioni che possono addirittura portare alla morte per intenderci si può considerare l'alzare la voce durante un dialogo come una fallaccia no no perché le fallacce hanno a che fare con il contenuto è un espediente dialettico estremamente becero rientriamo in quell'immagine che vi ho dato di colui che sta perdendo la partita scacchia allora ribalta al tavolo col pubblico bravo bravo lui sì che è un leader forte certo alzare la voce concorre a dare questo effetto di forza di prevalere con la forza in assenza di argomentazioni non è una fallaccia ma è assolutamente deprecabile la cultura del blastare è di una tossicità incredibile per quanto si possa effettivamente avere ragione concordo esposo nel dettaglio all'inizio ci siamo un po' innamorati tutti in realtà parlo per tutti parlo per me mi sono innamorato io e ho visto anche altre persone del concetto del blastare soprattutto quando inizialmente veniva fatto da personalità autorevoli in questo momento credo che stiamo tutti pensando a burioni di indubbia competenza quindi nel vedere la persona competente che umiliava l'ignorante nella sua arroganza dava grandissima soddisfazione solamente che adesso è stata mutuata la metodologia non ah ok è importante prima di parlare sviluppare una competenza specialistica che richiede decenni di informazioni no è passata la metodologia vi racconto quest'aneddoto una volta ero dal non mi ricordo come si chiami Beirut credo comunque è un ristorante d'asporto libanese qui a Bologna entro ero in coda e c'era una signora che stava facendo l'ordine ma in maniera effettivamente aggressiva io non so se avesse anche qualche problema però era inutilmente aggressiva eh cos'è questa cosa e questa e questa perché non mi ha detto che c'era devo dire che io stesso stavo per intervenire o meglio l'avrei valutato se non avesse visto che il ragazzo dietro al bancone in realtà si stava divertendo era surreale la situazione una ragazza lì presente invece interviene dicendo signora si può anche dire per piacere lei si gira e fa io non sono una signora innanzitutto e poi tu che segno sei? che importanza ha che segno no che segno sei? signora non glielo dico non credo nell'astrologia ma non c'è niente da credere l'astrologia è scienza studia capra ignorante questa persona quindi gli ignoranti hanno fatto loro la metodologia del blastare non ha mica fatto loro il concetto che importanza è la cultura quindi sì è veramente tossico l'idea io entro in un dibattito per blastare il mio avversario e su facebook questo si fa in continuazione ovviamente l'obiettivo non è non è insegnare qualcosa a chi legge non è insegnare qualcosa al proprio interlocutore ma a gratificarsi con i like che poi si prendono e sappiamo che i like proprio danno dipendenza perché liberano le endorfine di fatto se ne parla molto adesso giustamente c'è proprio una dipendenza dal concetto di like mai nella storia l'essere umano aveva avuto accesso così facile all'approvazione altrui prima era molto difficile ricevere un complimento adesso veramente basta un niente per ricevere questo tipo di gratificazione blastare è un modo per ottenere insomma questa scarica di benessere mettiamola così Immanuel mi chiedo se tale tipo di discussioni siano dovuti ad un personalismo facile per cui non ci si mette nell'ottica che devono essere le idee a dialogare non solo le persone in quanto tali oppure di mezzo per esempio ci sia una questione di principio di sentimenti come orgoglio inoltre c'è un motivo per la presenza di tale fallace in ambito politico forse perché è un contesto molto orientato di per sé alla decisione e non alla discussione beh si è eccitato hai eccitato tantissime cose partendo dalla fine certo certo in politica difficilmente in un dibattito politico un esponente di un partito entra in un dibattito aprendosi alla possibilità di cambiare idea infatti cosa ho spiegato prima quella è una possibilità a rivela la verità o altrimenti dimostrare che la propria posizione è ragionevole spesso si fa così in politica però non è per dimostrarlo non dovrebbe essere necessario utilizzare delle fallace anche perché questo è un indice del fatto che allora tale posizione non è ragionevole e sul perché se non utilizzino così tante per mancanza di onestà intellettuale mancanza di integrità di cui abbiamo una fame enorme magari non la razionalizziamo ma quando sentiamo qualcuno parlare di politica o in un contesto pubblico che non attacca l'interlocutore che in maniera molto posata argomenta un discorso logico secondo me è così per questa ragione ma è come se avessimo una boccata di ossigeno perché non siamo più abituati più abituati e invece tale onestà intellettuale come l'integrità dovrebbero essere caratteristiche necessarie alla candidatura a qualsiasi ruolo di leadership io qui potrei aprire una parentesi enorme purtroppo i ruoli di leadership attraggono come magneti purtroppo personalità narcisistiche e tossiche perché perché il potere lenisce l'ansia che deriva da non potere controllare gli altri e il prestigio lenisce la bassa autostima è che di nuovo e guardate che io non devo guardare agli altri vedo in me vedo le mie insicurezze che vengono attratte come mi immagino una pietra con delle venature di metallo queste sono le mie insicurezze e queste vengono attratte da queste posizioni come se fosse un magnete però la sostanza è la pietra e non agisco sulla base di questa attrazione io credo che le abbiamo tutte queste insicurezze il problema è che con un'incidenza statistica preoccupante tante tante persone che poi si candidano a questi ruoli non hanno appunto nessun tipo di integrità nessun tipo di onestà intellettuale lo fanno per narcisismo e torna conto personale e lavorando alla base lavorando partendo dall'insegnare la cultura del dibattito tanti problemi li potremmo prevenire quindi bisogna lavorare proprio sull'istruzione sul sensibilizzare a un nuovo tipo di dibattito politico all'attuale tipo di dibattito io riconosco un merito non volontario anzi definiamolo un effetto collaterale ossia che ha riportato la politica la gente è di nuovo interessata alla politica io sono cresciuto in un contesto in cui la politica era qualcosa di altro di avulso di incomprensibile io che da ragazzino da adolescenze non avevo certo deficit cognitivi non riuscivo a leggere un giornale in casa mia arrivava l'eco di Bergamo non riuscivo a leggerlo perché era tutto autarchico autoriferito ogni articolo faceva riferimento a questioni non spiegate che a loro volta facevano riferimento a questioni non spiegate non capivo niente e questo ha fatto sì che si è avuto intere generazioni qualunquiste di fatto ma tanto sono tutti uguali poi noi politici ma tanto tanto a noi cosa cambia e questo è un problema invece il dibattito politico adesso ha raggiunto dei livelli di un infimo che è veramente alla portata di tutti e con una tifoseria che da oltra che eravamo abituati a vedere allo stadio e questo è il lato positivo immaginiamoci quello negativo quello positivo è appunto un rinnovato interesse nei confronti del dibattito politico Socrate che oggi verrebbe definito un professorone che è venuto qua a insegnarci le cose cosa diceva il prezzo che gli uomini buoni pagano nel disinteressarsi alla cosa pubblica essere governati da uomini malvagi formulazione che oggi reputeremo sessista potremmo parlare solo di persone in generale e va bene così e però questo è il prezzo quindi benissimo che si sia ritrovato l'interesse per il dibattito politico ma adesso si tratta anche di istruire ad una cultura di questo dibattito sono operazioni di respiro generazionale ma secondo me già tra una decina d'anni vedremo una differenza voi direte la decina d'anni è sì sì non vedo prima venire questo cambiamento ci sono casi in cui conviene abbandonare una conversazione molto 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 spesso quando la persona beh quando aggredisce ad esempio o quando diventa chiaro e qui bisogna basarsi un pochino sull'empatia diventa chiaro che la persona non è intenzionata a cambiare opinione lì è sufficiente ci si fa da parte e io lo faccio molto spesso ho letto un commento dove qualcuno diceva adesso lo ricerco ecco signor casto inserisca il banner per le donazioni attualmente non essendo diciamo ancora affiliato su twitch non c'è questa possibilità e utilizzo una piattaforma streamer che non lo consente però lo valuterò quando sarà il momento grazie mille per il pensiero intanto allora ma secondo te ma secondo te sia senso discutere sui social no ogni tanto può averlo ma lo si capisce subito lo si capisce subito è il caso di e io l'ho fatto di dire sono confuso non riesco a formarmi un'opinione su questo argomento oppure per me è così c'è qualcuno che ha voglia di sostenere la tese opposta e magari cambia idea lì ho avuto dei confronti molto utili però capite proprio a priori nel momento in cui uno semplicemente fa dei proclami e di solito finalizzati a raccattare like e di solito sono in negativo perché ricordiamo l'elogio è divisivo l'offesa unisce nel senso che se io elogio una persona la gente magari si sente in difetto soprattutto magari se c'è un problemino di narcisismo egocentrismo mentre io mi lamento attacco qualcuno ah vabbè li tiro su like come se piovessero quindi l'unione di queste dinamiche tossiche e la voglia di blastare fa sì che ora stimo una percentuale che non ha senso stimare ma basandomi sulla mia esperienza boh ha senso nel 2% dei casi per il resto si deve essere consapevoli che è come essere parte appunto non so del grande fratello è un intrattenimento quello dei social che ti offrono trash e va bene così allora anche il senso di frustrazione e vergogna nel riconoscere di aver sbagliato è il risultato dell'educazione errata che diamo in parte è normale non voler ammettere l'errore perché il nostro cervello non vuole faticare per rimodillare ciò che riteniamo vero d'altro canto basta crescere abituati alla ricerca del vero per ripulire i confronti grazie mille Federico non avrei saputo dirlo meglio di così io prima ho citato l'aspetto emotivo del fatto che non è semplice ammettere di aver torto però è una questione di orgoglio ma tu invece hai citato un altro aspetto che è poi quello che ha a che fare con il bias ti conferma facciamo che ne parliamo la prossima volta ossia che per comprendere il mondo il nostro cervello sviluppa delle strutture attraverso cui interpretiamo il mondo noi ci basiamo sul pregiudizio tutto il tempo noi appena vediamo una persona appena sentiamo qualcosa il nostro cervello per aiutarci a capire come muoverci emette subito il giudizio di fatto noi utilizziamo l'approccio opposto dal metodo scientifico il metodo scientifico prende i dati li analizza e poi arriva una conclusione noi partiamo dalla conclusione poi guardiamo i dati se li confermano li integriamo altrimenti li ignoriamo ce ne dimentichiamo la nostra mente funziona così può cambiare la nostra mente no ma come diceva Federico possiamo prenderne consapevolezza abituarci e esercitarci ad attenuare questo bias e imporci di entrare nel dibattito appunto non con l'idea di avere ragione ma di imparare qualcosa di nuovo si riesce a fare io sono cresciuto molto e come anzi confermatemi voglio sentire dei commenti mi capita un sacco questa cosa io tipo non lo so vabbè senza parlare dell'adolescenza in cui la crescita è esponenziale però non lo so io a 25 anni dicevo accidenti come sono saggio e pensavo a me stesso di 20 anni dicevo ma che ragazzino come ero arrogante pensavo di aver ragione a 30 anni dico ma a 25 anni ero veramente un cretino ma guarda che cosa facevo lì guarda che cosa combinavo guarda con che arroganza entravano le discussioni adesso finalmente vedo la realtà per quella che è adesso 37 anni dopo leggo le cose che scrivo a 30 anni dico no non è possibile ma ero un poveraccio quindi ipotizzo che finché ci sarà crescita e perché non augurarsi di crescere fino alla fine della propria vita continuerò a ripensare con compassione al me stesso più giovane quindi fatemi sapere se è così anche voi detto questo sì la crescita la vedo io ho imparato sto imparando a entrare nei dibattiti per arrivare alla verità mi sto proprio imponendo di dire frasi del tipo hai ragione o ho bisogno di pensarci o anche dire ecco altra cosa che mi sono ritrovato a dire ad esempio stavo discutendo con una persona che stimo moltissimo del concetto di identità di genere questa è una persona che ha idee molto conservatrici anche molto legate alla religione a cui tiene molto e lui non crede nell'esistenza dell'identità di genere che esiste solo il sesso biologico e il resto sia una costruzione ideologica popolare in questo momento e a un certo punto ho interrotto il confronto dicendo allora tu non cambierai idea ma neanch'io cambierò idea se non a fronte di qualcosa di specifico ossia c'è una montagna di letteratura in ambito psicologico e psichiatrico che dimostra l'esistenza di un'identità sessuale percepita che poi non è necessariamente binaria come adesso stiamo imparando a capire quindi io in questo caso cosa ho fatto ho detto esattamente qual è il tipo di prova a seguito della quale rivedrei la mia visione del mondo quindi cosa mi servirebbe per cambiare idea accettare che l'identità di genere non esista una mole di letteratura nell'ambito pari a quella che ne dimostra o che ne testimonia l'esistenza allora lo metto in discussione questa è un'altra cosa che possiamo fare quando stiamo discutendo e abbiamo idee opposte per non perdere tempo chiediamoci a noi stessi allora io cosa dovrebbe succedere affinché io cambi idea su questo argomento e diciamolo perché a volte è possibile a volte l'interludatore dice ah ma io questa cosa ce l'ho te la vado a prendere ah hai ragione però cosa serve per fare questo pulizia di pensiero e grande consapevolezza tutte cose che si insegnano molto facilmente soprattutto se si può partire da ragazzi e ragazze andiamo avanti le fallacce possono essere messe in atto strumentalmente anche tra due persone che sono in una relazione e si stanno confrontando su un problema di coppia in continuazione ma lo so perché l'ho fatto anch'io adesso non mi viene in mente ma è lo stromen argument è lo stromen argument tipo ti faccio questo esempio questa frase che tu hai detto di fronte ai miei amici mi ha fatto stare male mi ha ferito cioè quindi io adesso per paura di non ferirti non devo dire più niente ho utilizzato un argomento fantoccio perché ho trasformato l'argomentazione che era per piacere non dire questa cosa in non dire mai più niente è chiaro che la seconda è molto più attaccabile però quando si è presi dall'emotività ci si aggrappa con le unghie alle fallace pur di avere ragione quindi sia possibile andiamo avanti chiedo a Sergio di scegliere qualcosa per me dove interviene l'abilità di utilizzo delle fallace dove invece vengono incluse in uno standard di linguaggio che purtroppo ne è denso sai che non sono certo di aver capito la domanda dovremmo distinguere da un esercizio tecnico che si può fare anche insieme proprio è un esercizio in cui si riconoscono le fallace e ci si sforza ad utilizzarle proprio per poterle riconoscere negli altri mentre poi quando vengono utilizzate come expediente disonesto lì si tratta solo di poterle riconoscere ho un'idea facciamo un attimo questo giochino ora siamo in realtà in diretta da circa un'ora e non vorrei prendervi troppo tempo però facciamo così mi piacerebbe portatemi un'argomentazione io vi rispondo con una fallace e voi la riconoscete facciamo questo gioco dai ditemi io sono a favore di questa cosa tipo secondo me è giusto fare questo secondo me è sbagliato fare questo nel frattempo mentre la scrivete se qualcuno vuole porre una domanda o meglio se Sergio mi mette in sovraimpressione delle domande rispondo a quella così voi scrivete leggo io questa come mai una femmina etero non è attratta da un gay mentre un gay può essere attratto da un altro gay è una fallaccia logica scusami la devo rileggere come mai una femmina etero non è attratta da un gay ma sai che non è vero ci sono anche molte donne che si innamorano solo di omosessuali sono magari donne che di fatto non vogliono l'amore che rincorrono solo amori impossibili perché magari il modello d'amore che hanno avuto loro nell'infanzia era basato su di una figura genitoriale che non le amava e quindi si lanciano in queste sfide impossibili per ottenere quell'amore che non c'è mai stato quindi in realtà la premessa non è corretta mentre un gay può essere attratto da un altro gay ah scusami perdonami tu intendevi dire data questa argomentazione è una fallaccia ma è proprio una stronzata cioè non ti suona anche identificare la fallaccia è tutta talmente sbagliata che non so identificartela allora vediamo se qualcuno ha già pensato ad un'argomentazione chiedo di mettere la sovraimpressione altrimenti passiamo ad altro allora ZeroMante dice non confondere il bias con le fallacce il bias è solo la tendenza a favorire gli argomenti con cui si è in accordo non fallace logiche sono due argomenti collegati ma molto molto diversi uno è un errore nella comprensione nella realtà uno è un errore dialettico e oltretutto il bias non è intenzionale mentre la fallaccia può esserlo però sono due argomenti che in effetti è portare bene insieme perché spesso alcune fallacce vengono innescate da dei bias mettiamola così oggi la Santa Anche scriveva una situazione surreale mentre il governo lavora per limitare la libertà degli italiani durante le festività natalizie e blocca spostamenti tra comuni consente agli immigrati che arrivano in Italia di spostarsi da un continente all'altro e da una nazione all'altra senza controllo questo ovviamente è deflecting sostanzialmente paragona due cose che poi è un casino cioè qua c'è veramente tanto c'è veramente tanto da dire perché non è vero che comunque l'immigrazione non abbia nessun tipo di controllo qua faccio fatica a commentarla perché ogni singolo punto richiedeva un'analisi vediamo invece se c'è un'argomentazione più sintetica secondo me è giusto limitare l'utilizzo di automobili in centro città per limitare l'inquinamento ok vi rispondo con delle fallace e voi dovete riconoscerle chiedo di lasciare questa in sovrappressione così la vedo secondo me è giusto limitare l'utilizzo di automobili in centro città per limitare l'inquinamento ah ok quindi secondo te noi a sto punto non dovremmo più usare la macchina ma non dovremmo neanche usare il riscaldamento no? tanto l'obiettivo e limitare l'inquinamento vediamo chi la riconosce giusto argomentazione fantoccio no slippery slope ve la faccio e potrebbe essere ma la dovevo strutturare diversamente è tipo no se iniziamo a limitare l'utilizzo delle macchine in centro tra due anni finiremo il governo ci imporrà di usare monopattini questo è slippery slope oppure provate a riconoscerla l'argomentazione era dovremmo limitare l'utilizzo delle macchine in centro ma francamente tra avere emissioni di gas che danneggiano l'ambiente e il dover girare completamente a piedi io preferisco girare completamente preferisco accettare che ci siano delle emissioni di gas che fallaccia è questa falsa dicotomia andiamo avanti allora l'argomentazione di nuovo era lasciatemi in sovraimpressione allora sarebbe bisognerebbe vietare l'utilizzo di auto in centro per limitare l'utilizzo per limitare le emissioni di gas io non ho sentito nessuno che è d'accordo con questa cosa quindi evidentemente ti stai sbagliando rivedi quello che stai dicendo esatto appello alla maggioranza poi concludo l'ultima concludo l'ultima la raccomandazione abbiamo detto era dovremmo limitare l'utilizzo delle auto in centro ma e tu allora scusami perché non giri in bicicletta esattamente vedo che l'avete già trovata ad persona ok di questi esercizi potremmo farne tantissime però purtroppo questo è a livello medio del dibattito politico purtroppo allora in realtà ci stiamo avviando verso la fine di questa chiacchierata però un attimo allora vediamo allora argomento i vaccini sono sicuri penso che lo sarà anche quello contro il covid allora quindi secondo te tutti i casi certificati di persone che hanno avuto reazioni avverse ad un vaccino sono inventate vedo qualcuno sta già scrivendo argomento fantoccio oppure argomentazione il vaccino sarà sicuro un attimo che non voglio far sempre che non voglio autistico che fallaccia è aneddotico ho preso una vicenda che non ha nessun valore statistico e la metto in opposizione invece a un vaccino che sarà frutto di studi ampissimi sperimentazioni ampissime va bene dai ci siamo capiti allora io adesso devo fare una cosa molto simpatica da domani metteremo in vendita sui nostri canali un prodotto correlato alle mie creazioni ludiche ma abbiamo pensato ad un'esclusiva Twitch adesso verrà messo in sovraimpressione il link ci sarà il commento e chiedo a Sergio di tenersi pronto ossia le prevendite dei calendari della Freaking Chic che è la mia la mia società dedicati al tema di Squillo e fra l'altro li ho qui con me uno a questo dedicato al tema Squillo City e un altro invece che è dedicato a Squillo Trilogy vi vorrei far vedere qualche illustrazione ma mi chiudono sostanzialmente il canale di Twitch quindi vi faccio vedere questa allora ecco qui qui abbiamo ad esempio a dicembre una svetlana chiaramente chiaramente ispirata a Romina con le luci si vede male e dall'altro lato lo splendido adongo tra l'altro buona parte di queste illustrazioni sono realizzate da Marco Albiero bravissimo illustratore con cui lavoro da tempo che sarà ospite di una diretta che appunto le ha realizzate mentre uno stile più quasi da espressionista tedesco invece per Squillo Deluxe Trilogy Edition vi faccio vedere l'immagine questa tratta da Bordello d'Oriente e questa tratta da la carta intitolata Tropicana quanti ricordi quanti ricordi ne ho autografati oggi uno stock ci ho messo quattro ore è stato orribile domani posterò le foto e quindi chiaramente i primi acquisti saranno quelli effettivamente autografati vabbè volevo concludere la diretta raccontandovi raccontandovi un pochino di di questa chicca che andiamo a pubblicare nei prossimi giorni allora diamoci ancora cinque minuti di chiacchierata se qualcuno ha ancora qualche domanda insomma o quale qualche contributo che voleva fare volentieri grazie Manuel per questo favoloso appuntamento che permetti di aprire la mente grazie mille veramente molto molto gentile tra un po' inizierò fra l'altro ad avere anche ospiti persone di mia stima e ci faremo davvero una bella chiacchierata mi fa piacere poi tenervi compagnia in questo momento insomma di coprifuoco in cui la sera non si può uscire poi vedremo se portare avanti questo appuntamento anche dopo magari diventerà una volta a settimana lo vediamo i presentatori lettori del talk show sono palesemente consapevoli di come sia il dibattito pubblico nei loro programmi nonostante ciò molti non provano a cambiarlo perché è il giudizio più severo e l'assenza di deontologia professionale però bisogna vedere nel senso che il network vuole fare ascolti se un tipo di dibattito circense sostanzialmente se lo scannatoio porta ascolti loro sono anche vincolati a meno che abbiano un enorme potere sostanzialmente decisionale temo che la risposta sia questa un misto tra duverose considerazioni economiche e dubbia deontologia professionale tra meno di un'ora compierò 17 anni ma che carino ti chiami affranto 25 allora gli auguri in anticipo non te li posso fare ma immaginami tra meno quando è tra meno di un'ora che ti faccio gli auguri immaginami molto bene hai già un'idea del prossimo argomento allora giovedì prossimo in realtà sarà uno speciale live della posta del cuore la posta del cuore di gay.it questa rubrica che porta avanti settimanalmente dando due risposte alla settimana però mi stanno scrivendo veramente in tantissimi veramente cosa che mi lusinga moltissimo ci mancherebbe spesso non ho neanche titolo non rispondo perché non ho titolo per rispondere alle domande che mi vengono poste che necessiterebbero di un consulto o di uno specialista infatti posso solo indirizzare le persone in questa direzione quando invece penso di poter avere un pensiero di qualche utilità allora scelgo quello e ci faccio un video però sono veramente tante quindi c'era uno speciale giovedì con Romina Falconi la strutturiamo come dialogo sarà in diretta qui e sulla pagina facebook proprio in diretta streaming anche lì di gay.it risponderemo a qualcosa come 7-8 domande sarà una chiacchierata tema affettività mentre l'incontro del martedì successivo si parlerà di game design un tema che mi piace tantissimo non preoccupatevi non sarà una cosa troppo tecnica in cui si va necessariamente a parlare di titoli ma di gioco in generale che è uno degli aspetti che mi piace di più in assoluto e ne parleremo con Dario Massa che è il coautore con cui ultimamente sto facendo praticamente tutti i miei giochi la doppietta Romina più Manuel ti apre la mente e non solo e non solo anch'io non non vedo l'ora tra l'altro lei ci sta dando dentro veramente con su con Twitch sta diventando la 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 Twitch fa dirette martedì giovedì e il sabato a tema affettività principalmente è il suo centro d'ascolto e sono molto interessanti lei inizia un'ora prima di me e poi il palinsesto Freak and Ship appunto continua con me visto che siamo in tema squillo mi chiedevo se in futuro arriverà un mazzo con personaggi non binari in realtà già squillo trilogy edition che riassume le carte che amavo di più dei primi tre capitoli la divisione è uomini donne e non binari quindi ho già inserito questo elemento ci sono tre sfondi differenti però è sicuramente un tema che si può ampliare molto cosa ne pensi di fact checker in tempo reale nei dibattiti politici penso che siano buona cosa è chiaro l'essere umano è fallibile però meglio un fact checker fallibile di nessun fact checker in generale quello del fact checking è un argomento molto importante se volete se cercate su youtube mensa italia fact checking trovate un'intera conferenza dedicata all'argomento anche perché in autonomia con cosina si può fare poi ci sono dei fact checker di professione o comunque che ci dedicano tantissimo tempo a cui ci si può appoggiare quindi penso che siano utili fra l'altro mi fa mi fa molto sorridere se guardate la pagina facebook di trump sotto ogni status c'è c'è il commento i fact checker hanno stabilito che questa notizia è falsa tipo lui continua a fermare di aver vinto le elezioni per intenderci è abbastanza surreale questo fra l'altro sta facendo sì che persone che rientrano in una bolla ideologica che è in contrasto con ad esempio il metodo scientifico si stiano spostando su altre piattaforme sono dei social per complotisti che stanno lasciando apposta dove non si possono riportare le notizie perché false ovviamente detto così sembra ma perché lo fanno dal loro punto di vista perché in realtà l'informazione è controllata da dei poteri forti che agiscono nell'ombra e quindi anche i fact checker in realtà sono manipolati al fine di manipolare la massa mentre loro sono irrisvegliati si chiamano così di solito e quando sarà la puntata con mensa allora non mi ricordo se ho già fissato l'appuntamento con allora volendo potrebbe essere già giovedì di settimana prossima potremmo fare così lo confermerò però potremmo fare così nel caso cosa cosa vi piacerebbe che porti io avanti un discorso raccontando la storia del mensa cosa fa il mensa oggi perché entrare nel mensa raccontare questa realtà da solo o che magari inviti qualche mensano per qualche chiacchiera tra l'altro in realtà Sergio stesso che segue la regia è oltre a essere uno dei miei più cari affetti nel mensa e anzi è nel direttivo consigliere le comunicazioni volendo potrebbe essere Sergio a prendere la parola lo dico perché lui non ama queste cose però se voi lo pungolate potrebbe farlo qual è la tua opinione riguardo la tipa che fa la spesa a detto fatto credo l'abbiate tutti presenti insomma quel tutorial è andato in onda nel primo pomeriggio credo di dove una ballerina mostrava come fare la spesa in modo sexy bella domanda mi piace perché non ho una risposta univoca nel senso è un buon esempio di come il problema spesso non sia il contenuto ma l'appropriatezza del contenuto dato il contesto in uno sketch teatrale o in un contesto di intrattenimento per adulti dichiaratamente politicamente scorretto io una ballerina che insegna come fare la spesa apparendo un po' mignotta l'avrei trovato geniale lo avrei amato è stato totalmente inappropriato in quella fascia oraria per un pubblico generalista dove veramente è sembrato un invito ad un'educazione proprio ad un'educazione di genere violenta nei confronti della donna che deve girare con un tacco 12 e si deve preoccupare di essere oggetto sessuale persino mentre prende i fagioli quindi concordo sull'indignazione pur specificando che non condanno il contenuto ma dove il contenuto è stato omesso quando una persona può scegliere è questo cioè è questa la differenza tra un palestrasso televisivo dove i contenuti ti arrivano in faccia e al pubblico generalista e a quando invece io scelgo perché vado in uno spettacolo teatrale ascolto una canzone mi guardo un prodotto in streaming lì se è opzionale per me Oscar Wilde diceva l'arte ma la si può intradurre e per me volendo una ballerina che insegna a essere un po' zoccoletta mentre fa la spesa può essere anche arte non è buono o cattiva attenzione a metterci la morale nell'arte o nell'intrattenimento quindi questa è la mia opinione giusto che sia stato aspramente condannato per il contesto in cui è stato inserito sarà possibile per i tuoi followers qui su Twitch chiamarti in diretta sarebbe bello sì sì nel senso allora tecnicamente io non so come si faccia però mi piacerebbe mi piacerebbe molto fra l'altro vi dico stavo pensando di fare anche qualche diretta di gaming vedete dietro il mio televisore a me piacciono solo giochi in modalità arcade o sparatutto picchiaduro e avevo pensato di fare qualche diretta e magari selezionare qualcuno che giochi con me magari a qualche picchiaduro mentre si fa aprire o mi apre mettiamola così ecco con Discord canale che non ho che non utilizzo ma che effettivamente ha questa potenzialità ma sentite i gatti o li vedete? no c'è un abuso non guardatelo diretta con i mici quando? ecco eccolo eccolo ma che meraviglia è proprio chiamato in causa e guardate come vi porge il suo culetto così bramoso vediamo se c'è ancora qualche commentino da leggere allora ti prego fai una diretta mentre giochi ad un gioco oppure ti prego appunto fai una diretta mentre giochi ad un gioco da tavolo c'è un problema esclusivamente di hardware che non è semplice riprendere il tavolo da gioco e serve un minimo di regia servono altre camere che inquadrino il viso si può fare ma è uno sforzo insomma produttivo che potrebbe essere un pochino spropositato lampino qualcuno chiama giustamente allora io direi che siamo arrivati al termine di questa chiacchierata spero che l'abbiate trovata interessante se volete riguardarla già da domani sarà su youtube grazie mille eravate tanti grazie per per avermi fatto compagnia in questo appuntamento che mi sta mi sta facendo tanto piacere leggo un commento molto carino quindi io vi do appuntamento giovedì mattina ci sarà un pubblicherò un nuovo video sui miei canali instagram facebook della posta del cuore e la sera ci sarà lo speciale c'è posta per casto live con Romina Falconi mi ricordo ancora insomma l'anteprima tweet dei calendari della Freak & Chic mentre da domani saranno aperti anche al volgo e detto questo io vi auguro una una castissima una buonissima notte a presto